Peschiamo all'Ostorione. L'Ostorione è in canna. Silvio sta facendo degli sforzi sforzi umani. Stiamo pescando con le esche di antiche pasture. Le esche che usiamo in questo momento è questa pasta, Trigger Past, molto tenace al lamo, con un mix micidiale di formaggi. Abbiamo tantissime altre esche, circa 40 tipi di esche per la pesca all'Ostorione, quindi dalle paste pop-up alle boilies pop-up. Questo prodotto naturalmente che è una nostra invenzione ed eccolo qua, questa pasta racchiusa in un budello organico di maiale, ecco qua, che tagliata a porzione e messa al lamo diventa degli ottimi inneschi. Quindi la gamma è vastissima. Ora vedi, io ho l'esche e Silvio te l'ho date, l'Ostorione te l'ho fatto attaccare e ora arrangiati. Eh certo.